ma io non ti capisco Leona, ma non ti capisco ma il stesso giornale mi è venuto proprio schifo di lecce non diceva sempre il stesso ma sullo giornale, ma perché la televisione, la piccola televisione no, rutella, belloscone, belloscone, rutella non ci capisci, ma a belloscone, la manca una rutella la rutella che la manca a belloscone la verità è una sola eeeh, Leona, è tutto un business a me, Leona, a me, a me che schifezza è il governo, Caterina le dice pure tu, ci ha detto, e che si sembrano di sé? schifezza è il governo, Donnellè parla, 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 non accorgi mai niente la delinquenza continua ad aumentare sempre il più e se è accostinata la ragione il mio amico c'è l'agico governo ma vi sapete che è successo? che è successo? io sapete, io e Giulia siamo amiche noi ogni tanto ci incontriamo, pure che fanno poche spese siamo andati a comprare il pesce perché io sapete che a Giulia ci piace il pesce mi sono andati a comprare il pesce perché l'arrivo sembra che fanno pesce io è rimasta amiche non c'ho mai scesa hai scordato il freno a mano? ma qua freno a mano ma qua si è scesa amiche non le ho mai capisci qualcosa di una cosa noi stiamo tornando con due borzacchi così tutto pesce, quanto pesce? eppure a me mi piace, siamo arrivati alla bella e buona non troviamo più amiche non stiamo pigiando amiche, non so, la rinde c'è stai facendo oh mamma mia ma come ma, voi sono lasciata la porta aperta sono due anni, due anni non temi più l'acro ma ne carabinieri si ti uve ma come non si miute è in corso avete fatto la denuncia? subito ci sono sì sì, poi avviamo le indagini lo sapete già donne quando avviene le indagini chi lo sta negli nefasi lo vedo quasi succede un punto a minuto ecco preoccupazione oh il telefono che stai sopra che stai sopra posso ne invece i mariolo pronto chi è uè Giulia è calma diamo non fa così Giulia sta calma come sta calma mamma mia guardate come mi piangia no io non ho saputo ancora niente ci ha lasciato il numero di telefono nei miei carabinieri che la verità proprio è pure il numero della casa mia però io non ce l'ho girato il numero della casa mia Giulia eh ma che fai pensando su venno no ma che stai andando a vedere no ma che stai andando a vedere no eh che non fa così che stai andando a vedere non ne pensavo proprio sti cosi ma poi tornare un giorno stanno mi vengono poco il luogo chiamati mi vengono poco il luogo non ti preoccupare eh ciao Giulia ciao eh ciao ciao Giulia calmatevi Giulia ciao sta Leonardo e Ernesto ma che stai andando a vedere no mi chiedo te lo faccio a vedere se non sono so accorto che non sono so accorto se stai vicino in testa della macchina e vedi che ti rimane la cocco non sono sicuro che sto vendendo che la ragione pure se sto vendendo poco la due e siamo ma che ha calmato sai cosa non ti preoccupare che preoccupazione ma mamma quando si preoccupa come si fa brutto che così va ma che la ragione ma come è ma dico io ma un po' parcheggiare ma sai Giulia quante creature tenei quello ne tenei uno solo la bambina l'unica cosa che hai capito è che te ne rubiamo ma hai detto Giulia o Giulia si chiama Giulia Giulia la mamma cirocli a tu ma io non hai capito ancora io ho cercato di informare ma io non chiamavo cirocli a forza ma non si chiama cirocli a forza ma non si chiama cirocli a vendere e se l'avessi pigliato poco petomane se l'avessi pigliato poco petomane ma tu sai lo petomane ma tu sai lo petomane si ma se lo chiamai i creati no è quello che fanno capito no ma tu non si mangia i fagioli chi li ho petomane ma non ha ricevuto questa parola non è possibile che ogni spuntato ci ha mangiato su questa parola tu non lo sai ricevuto questa parola pedofilo si dice pedofilo il buono è un momento dici beh eh mi dice che ha sottetto io il romane è quello pedofilo è che ho picciano le criature ho fatto la fine di giovannatà è che questo di disgraziato ha picciano le criature fanno a picciare la macchina i spugni si può essere sull'ora pronto uè Anna ah si sono fatte 7 milioni come 7 milioni 7 milioni lo portano qua ma ma cosi ma ma hai capito che ha accattato 7 milioni o no ma forse per la macchina si ma però andate con i carabinieri eh perchè chi sa da finissimo pure l'omertà si deve rompere chi sa andando in galera l'omertà non fa bene a nessuno alimenta solo la delinquenza e andate là con i carabinieri e facci dei picchià eh hai capito? non consegnate 7 milioni e fa lei 7 buone 7 buone mannaccia mia ma tu hai capito 7 milioni 7 buone allora che vorrei chi è? permesso? buongiorno vuoi consegnare questo cane in questo salone io penso che qua non mi eh 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 ma me ma approfitta cazzo è uno cliente ha dato il suo cane quella no 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 due ragazzi qua fuori mi hanno detto porta questo cane nel salone che è una sorpresa ma perchè tu hai scioccolato il cane? vai scioccolato quando hai polizia ti rimane da favore bello bello sentite il favore troppo guardati ciao ciao